il governatore del lazio nicola zingaretti ha lanciato oggi la candidatura di civita di bagno reggio a patrimonio unesco una bella sfida detto che si inserisce all'interno di una politica della bellezza che in questi anni ci ha aiutato a fare scelte di campo molto importanti l'iter sarà lungo ha ricordato ancora zingaretti perché la competizione è molto agguerrita ma ci siamo preparati bene chiamando a raccolta i migliori esperti i migliori studiosi per preparare il dossier la città che muore al centro della valle dei calanchi tra la valle del tevere e il lago di bolsena è un bene ambientale di inestimabile valore da proteggere rilanciare non solo passata e memoria ma soprattutto futuro da recuperare e salvaguardare